buongiorno a tutti riflettere sul culto della sindone vuol dire ripercorrere circa 2000 anni di storia noi pensiamo sempre alla festa istituita alla memoria liturgica istituita al papa giulio ii nel 1506 anche con l'ufficio della sindone la messa ma ci sono delle tracce sia prima che dopo di questo culto della sindone venendo verso di noi ad esempio abbiamo il santo considerato santo carlo borromeo nel 1578 per il quale verrà trasferita la sindone dalla francia da chamberi a torino e poi resterà qui a torino ma abbiamo anche molti altri momenti in cui la sindone verrà presentata nelle ostensioni alla venerazione di tanti fedeli venerazione pubblica venerazione privata venerazione privata come per il papa pio settimo nel 1804 venerazione pubblica sempre per lo stesso papa nel 1815 venerazione per quando inizia l'era moderna della sindone potremmo dire con la grande ostensione del 1898 e poi anche per i papi che l'hanno voluta osservare e hanno voluto pregare in sua presenza da vicino pensiamo al papa paolo sesto che ha con l'ostensione televisiva del 1973 si dona una profonda meditazione oppure papa giovanni paolo secondo nel 1980 con una ostensione privata nel 1998 partecipa all'ostensione pubblica papa benedetto nel 2010 papa francesco ci ha donato una meditazione in questo periodo del 2020 il sabato santo risalendo all'indietro abbiamo molte tracce di questa venerazione dai monumenti la cupola del guarini 1694 la cappella la sente chapelle di chamberi nel quale era conservata la chiesetta di lirai che viene edificata per la conservazione anche per l'ostensione della preghiera per questa per questo telo per questa sindone ricordiamo anche delle tracce nella storia di tanti secoli quando veniva ad esempio presentata al pubblico in posizione verticale durante l'assedio di costantinopoli siamo intorno al 1200 oppure precedentemente ne abbiamo tracci in molti affreschi o scritti sparsi nella storia dell'europa nelle testimonianze un po di tutta l'europa e anche in parte del medio oriente ma forse per comprendere che cosa significa la sindone dobbiamo andare ancora più indietro al capitolo 20 del vangelo di giovanni giovanni ci racconta dell'esperienza alla tomba di gesù pietro e il discepolo che gesù amava che tutti identificano in giovanni stesso si recano al sepolcro perché le donne raccontano di aver visto la tomba vuota che manca a questo corpo corrono tutte e due e poi si affacciano alla tomba e poi entrano e cosa vedono non vedono il corpo il corpo non c'è più però l'evangelista ci dice vide e credette vede che cosa vede questi teli riposti lì dove prima era il corpo di gesù teli che sono stati lasciati lì perché il corpo non è stato rubato fosse stato rubato i teli sarebbero anche stati asportati assieme al corpo sarebbe stato più comodo ecco i teli sono lì e la descrizione è come afflosciati manca dentro il corpo ma sono come afflosciati e allora nasce subito questa contemplazione questa venerazione dei teli i discepoli si fermano e guardano e pregano all'inizio comprenderanno poco della risurrezione di gesù tornano via ancora sconvolti senza comprendere che cosa gesù volesse intendere col termine di risurrezione lo comprenderanno quando gesù apparirà loro quando sono ancora spaventati quando sono in preghiera quando sono a porte chiuse ecco quando gesù apparirà loro per perdonarli per dare la forza la speranza per continuare ad annunciare il suo vangelo a tutte le creature e ancora noi e allora noi di fronte anche alla sindone in che posizione in che atteggiamento ci possiamo mettere innanzitutto contemplativo contemplare quell'uomo che ha sofferto è stato crocifisso che ha patito la sofferenza di tante persone di tanti uomini e donne che continua anche i nostri giorni la sofferenza di coloro che non riescono a gridare al mondo la loro sofferenza ecco il cristiano deve saperla cogliere meditare e aiutare e poi dobbiamo andare al di là della sofferenza dobbiamo vedere in quella sofferenza quella descrizione che ci viene data dai vangeli dai profeti in cui intravediamo un cristo che si dona un cristo che è per tutti noi una presenza di salvezza ecco allora per tutti noi anche oggi la contemplazione della sindone la riflessione sulla sindone sia un momento che accompagna la nostra vita la nostra crescita anche di cristiani grazie